ciao jessica ti mando questo video per tutti i nostri amici di radio f io sono a calme come ti avevo detto e come ti avevo promesso siamo in pescheria dove vado a prendere sempre il pesce fresquissimo di queste parti e andiamo dentro buongiorno 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 che cosa vi consiglio oggi? e oggi c'è un dibanco meraviglioso oggi posso consigliarti delle trie di scoglio pescate qui abbiamo anche dei bei san pietri roba locale non vengono grossi grossi però sono bellissimi no 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 ok abbiamo queste due cose abbiamo i brantini di mare e questo qui bellissimo bello bello le sogliole dopo ci viene avanti abbiamo una bella zuppa tutto pesce locale no molto tempo abbiamo le cicale che meraviglia le orattine le razze le triglie c'è di tutto oggi allora prego oh quello sono i filetti di san pietro questo è il san pietro pulito perfetto li facciamo perfetto con questo questo è il filetto questo è il pesce intero bello ci si 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 perfetto benissimo allora prendo quel filetto e poi per favore 5 triglie che farò al forno va bene grazie seguite alla ricetta sicuramente grazie grazie